eccoci qui con un'altra amica un'altra protagonista di questa serata come ti chiami Giorgia da dove Giorgia? da Montirone benissimo festeggi qualcosa di importante io so me l'hanno detto 18 anni 18 anni fatti un applauso fatti un applauso che bello il primo auto applauso della storia allora come si sta 18 anni lo chiediamo spesso è una data importante tu come ti senti bene come prima ci rispondono tutti così che non cambia nulla quale sarebbe il tuo più grande desiderio adesso che hai 18 anni non lo so un viaggio la macchina nuova qualcosa non lo so una macchina nuova tipo tipo dai dai prova a suggerire dai idee dai idee BMW BMW hai capito i giovani d'oggi hanno idee chiarissime ma che modello che modello serie 1 serie 1 madonna l'hai già vista anche mi sa si è quadrata allora quella è una telecamera vera e propria immagina che adesso coloro che potrebbero aiutarti a prenderla ti stiano guardando fai il tuo annuncio per convincere a comprarti la tua BMW serie 1 vai compratemi la macchina vi voglio bene tutti vi voglio bene sembrava un po tipo teletone 30 ore per la vita no che ha mandato questo messaggio al mondo quindi anche noi ci uniamo alla raccolta fondi alla colletta per Giorgia se volete comprarle la macchina contattate il convento e noi saremo ben lieti di aiutarvi a contattare Giorgia con chi sei qui stasera con i miei amici dove sono dove sono facceli vedere eccoli là eccoli là sono tutti molto interessati alla festa di Giorgia perché loro mancano bevono e l'hanno lasciata da sola alla nostra mercè però no dai sono amici stretti di voi bene certo diglielo diglielo voglio bene ai miei amici di più più convinta più più tenera voglio bene ai miei amici non ti ho detto di urlare più sentimentale più emozione più emozione voglio bene ai miei amici questa andava bene la prendiamo regia la prendiamo la scritturiamo provino passato ok ciao Giorgia ti auguriamo buona serata fai un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando ciao